ecco la contessa Samoris quale? quella signora là? vestita di nero? sì, quella porta il lutto della figuola che lei stessa ha ammazzato andiamo via, che mi raccontate? una storia semplicissima senza delitti e senza violenze di che si tratta allora? nulla si dice che molte cortigiane siano nate per essere delle donne per bene e molte donne cosiddette per bene sono nate per fare le cortigiane ora madame Samoris, nata cortigiana aveva una figlia nata per essere onesta ecco tutto non capisco bene mi spiegherò meglio la contessa Samoris è una di quelle persone ipocrite come ne calano centinaia a Parigi ogni anno contessa ungherese o valacca o non so cosa fece la sua comparsa un inverno in un appartamento degli Champs-Élysées il quartiere degli avventurieri e aprì i suoi salotti a chi capitava ci andai perché? non lo so mica ci andai come ci andiamo tutti perché lì si gioca perché le donne sono facili e gli uomini disonesti conoscete quel mondo di filibustieri insigniti delle più sbagliate decorazioni tutti i nobili tutti i titolati tutti sconosciuti alle loro ambasciate ad eccezione delle spie parlano e sparlano di onore citano i loro antenati raccontano la loro vita millantatori, bugiardi, bari pericolosi come le loro carte ingannatori come i loro nomi l'aristocrazia della galera insomma mi piacciono moltissimo sono interessanti da studiare da conoscere divertenti da ascoltare spesso spiritosi ma insignificanti come i pubblici funzionari le loro donne sono sempre belle con un non so che di civetteria straniera con il mistero della loro vita trascorsa forse per metà in una casa di correzione hanno in genere occhi meravigliosi e capelli incredibili anche loro mi piacciono Madame Samoris è il prototipo di queste avventuriere elegante, matura e ancora bella seducente e felina si sente che è viziosa fino al midolla a casa sua ci si divertiva molto si giocava, si ballava, si mangiava insomma si faceva tutto ciò che costituisce il lato piacevole della vita di società che aveva una figlia una ragazza alta, magnifica sempre allegra sempre pronta a divertirsi che rideva sempre di gran cuore sempre pronta ad abbandonarsi alle danze più sfrenate una vera figlia avventuriera ma un innocente, un ignorante un'ingenua che non vedeva, non sapeva, non capiva non indovinava nulla di quel che accadeva nella casa materna e voi come fate a saperlo? come faccio a saperlo? è questa la cosa più strana una mattina suonano a casa mia e il cameriere viene a dirmi che un certo Joseph Bonenthal vuole parlarmi dico subito chi è questo signore? il mio servitore risponde non saprei, signore forse un domestico di fatti era un domestico che voleva entrare al mio servizio da dove venite? dalla casa della signora contessa a Samoris ah, ma la mia casa non somiglia per nulla alla sua lo so bene, signore è proprio per questo che vorrei venire qui ne ho abbastanza di quella gente quelli sono posti dove si passa ma non si resta io avevo proprio bisogno di un domestico l'assunsi un mese dopo la signora Ivelin Samoris moriva misteriosamente ed ecco i particolari di quella morte come me li ha raccontati Joseph che li aveva saputi a sua volta dalla cameriera della contessa amica sua una sera di ballo c'erano due nuovi ospiti che chiacchieravano dietro un uscio Ivelin che aveva finito di ballare si appoggiò a quella porta per riprendere fiato quei due non la videro avvicinarsi e lei sentì tutto dicevano chi è il padre della ragazza? pare che sia un russo il conte Ruvalov ma ora non hanno più rapporti e il principe regnante oggi chi è? quel principe inglese che sta in piedi vicino alla finestra la contessa è pazza di lui ma le sue pazzie non durano più di un mese o di sei settimane per resto potete vedere da voi come gli amici che le girano intorno siano numerosi tutti sono chiamati e quasi tutti sono eletti costa un po' caro ma insomma e il nome di Samoris dove l'ha preso? dal solo uomo che forse abbia amato un banchiere ebreo di Berlino che si chiamava Samuel Morris benissimo vi ringrazio ora che so tutto so anche come comportarmi e non farò complimenti quale tempesta si scatenò nell'anima di quella giovane che aveva tutti gli istinti della donna per bene quale disperazione sconvolse quel cuore semplice quali torture spensero quell'allegria continua quel riso delizioso quella trionfante gioia di vivere quale lotta si scatenò in quell'essere così giovane fino a che l'ultimo invitato fu andato via questo Joseph non poteva dirmelo ma quella stessa sera Evelyn entrò improvvisamente nella camera di sua madre mentre stava per andare a letto fece uscire la cameriera che restò ad ascoltare dietro la porta e ritta pallida con gli occhi sbarrati disse mamma ecco quel che ho sentito dire in sala stasera e riferì parola per parola quel che già sapete sulle prime la contessa stupita non sapeva cosa rispondere poi negò tutto energicamente inventò una storia qualunque giurò invocò dio a testimone la ragazza uscì sgomenta e incredula e cominciò a spiare ricordo perfettamente il suo strano mutamento era sempre seria e triste e ci fissava con i suoi occhi tristi come per leggerci nel profondo dell'anima noi non sapevamo cosa pensare e corse voce che stesse cercando un marito temporaneo o definitivo una sera non ebbe più dubbi sorprese sua madre allora freddamente come un uomo d'affari che stabilisce le condizioni di un accordo le disse ecco mamma quel che ho deciso andremo tutte e due a vivere in una piccola città oppure in campagna faremo una vita riservata e modesta i tuoi gioielli da soli valgono un patrimonio se troverai da sposarti con qualche brav'uomo tanto meglio se trovo anch'io meglio ancora se tu non accetti la mia proposta mi ammazzerò questa volta la contessa mandò sua figlia a letto e le proibì di ricominciare la ramanzina davvero sconveniente sulle sue labbra Yvlin rispose ti do un mese per pensarci se tra un mese non avremo cambiato vita mi ucciderò perché per me non c'è altra soluzione onorevole e se ne andò dopo un mese in casa Samoris si continuava a ballare e a divertirsi Yvlin allora con la scusa di un mal di denti mandò a comprare da un farmacista vicino alcune gocce di cloroformio il giorno dopo fece la stessa cosa e probabilmente ogni volta che usciva dovette comprarne lei stessa piccolissime dosi e riuscì a riempirne una bottiglia la trovarono una mattina a letto già fredda con il viso coperto da una maschera di cotone la sua bara fu coperta di fiori la chiesa parata di bianco ci fu molta gente alla cerimonia funedre se l'avessi saputo ma come si fa a sapere forse avrei sposato quella ragazza era veramente bellissima e la madre che ha fatto oh ha pianto molto sono appena otto giorni che ha ripreso a ricevere gli intimi cosa è stato detto per spiegare quella morte si è parlato di un nuovo tipo di stufa il cui meccanismo si era guastato ci sono stati altri incidenti provocati da simili arnesi se n'era molto parlato e non c'era niente di inverosimile nell'accaduto di un'accaduto di un'accaduto di un'accaduto di un'accaduto